Ritornano le file fuori dalle farmacie, un viavai costante di persone che arrivano per sottoporsi al test anti-covid. È la fotografia che mette nero su bianco la nuova impennata di contagi e le farmacie tornano così a macinare tamponi a ritmo spedito. Più o meno quanti tamponi fate al giorno? Viaggiamo sui 50-60 tamponi, 70, dipende dalle richieste. Su questi quanti positivi? Non quasi la metà, stanno diventando veramente tanti. In questi giorni la positività sta di nuovo leggermente diminuendo, giorni scorsi eravamo intorno al 50-60%, oggi in particolare non sono stati molti positivi. In realtà dipende da giornata a giornata e dalle situazioni. Mai così alti da febbraio, 9.214 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, 1.635 a Vicenza. Tra le province più colpite dalla furia di Omicron, 5 con 16.376 casi attualmente positivi e secondi in regione dopo Padova. Ma il dato ufficiale potrebbe essere anche tre volte superiore. Per ogni positivo registrato con il tampone, infatti, ce ne sarebbero almeno due che si sottopongono al test fai-da-te a casa, risultano positivi magari a pochi giorni dalla partenza per le vacanze e decidono così di non dichiararsi a luce sfuggendo di fatto allo screening. Il fenomeno ormai è quello dell'iceberg. Noi misuriamo la punta, vediamo la punta dell'iceberg, ma non riusciamo a misurare quello che sta sotto il livello dell'acqua. Bisogna dunque tutelare gli anziani e i più fragili, sottolinea l'opneumologo, oggi tornati di nuovo tra le corsie degli ospedali. I primi a sottoporsi alla vaccinazione, dunque più a rischio, ora perché dopo mesi la copertura del siero si è notevolmente ridotta. In attesi in autunno del vaccino bivalente, il consiglio dei sanitari è... è necessario su queste persone, i più fragili o quelli oltre sessantenni, i più di patologici, che vadano comunque in attesa di quell'altra a farsi la vaccinazione adesso.